Giro del mondo in un giorno Giro del mondo in un giorno Orso, che stai cercando? Hai perso qualcosa? Giro del mondo in un giorno Conigli, è successa una cosa grave Orso non trova il suo biglietto premio da nessuna parte Ecco dove è finito il biglietto Vallo a prendere Io intanto vado a cercare di distrarlo Allora, orso, hai trovato il biglietto? Se cercheremo insieme, forse lo troveremo Insomma, come si fa a trovare qualcosa In mezzo a tutto questo disordine Hai guardato in camera da letto? A questo punto? Sono retta che cercare in cucina Non abbiamo controllato l'armadio delle scopre Orso, rispondi a questa domanda Quali sono le parole più importanti al mondo Ascolta attentamente e memorizzale Girando il mondo prima o poi Diverse lingue sentirai E a dire tutto quel che vuoi Tu anche un giorno imparerai In Spagna oppure in Messico Gracias, dici e por favor Hola amigo, come va? Che gran fiesta che sarà Sei in Germania a passeggiar Ed educato vuoi sembrar Vitte scene ed anche se Sei dire e non dimenticar Un viaggio in Francia Un viaggio in Francia, perché no? Parigi è bella, se lo so Le brasserie di caffè Allora monsieur, non si vous qu'est vous plé In America, Inghilterra e poi In Canada e l'Australia, sai Soi ridendo, dimmi cheese E farà presto a dirti Cruciale stars, passivo Io lo so, grazie, prego E tu da sai, arigato Sei in Giappone, volerò Muchas gracias, por favor Vitte scenes, passivo Please thank you e poi goodbye Nuovi amici presto avrai Dal nord al sud io viaggerò E tutto il mondo scoprirò La mia valigia pronta già Che meraviglia che sarà Oh, e se stesse nella tua valigia? Non ci abbiamo guardato Vai orse, fai buon viaggio Le parole importanti Non dimenticarle Ormai è un mese che sta viaggiando Che bei posti ha visitato Sono davvero felice Sono riuscita a viaggiare in tutto il mondo in appena un'ora Su, andiamo, vai! Su, andiamo! Forza, ci sono quasi! Andiamo, andiamo! Aaaaah Non è possibile, ho perso di nuovo Ehi, adesso tocca a me giocare Su, avanti, ridammi la console Hai sentito cosa ho detto? Adesso tocca a me giocare! Fermati immediatamente! Fermati immediatamente! Oh! Oh! Arrediti! Non puoi più scappare da nessuna parte ormai! Voglio giocare anch'io, capito? Dammi subito questa console! Oh! 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 Orso, stai giocando da un sacco di tempo Toccherebbe a noi adesso È davvero la fine dei giochi, game over Non so fare l'aria più Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ma che ti salta in mente? Lui sta soffrendo e tu te ne stai qui a cucinare! Adesso andiamo a curare Orso e poi potrei tornare a cucinare! Grazie a tutti! Purtroppo le cure mediche non l'hanno guarito... Allora ci penseranno i suoi amici ad aiutarlo! Orso, ho bisogno di te! Orso, ho bisogno di te! Orso, ho bisogno di te! Neanche loro ci sono riusciti! Orso, ho bisogno di te! Orso, ho bisogno di te! Orso, ho bisogno di te! Credo che sia veramente la fine dei giochi! Game over! Dunque dunque, non vedo i cartoni! Dove si saranno nascosti? Dove si saranno nascosti? Hmm... Diamo inizio alla nostra indagine! Un, due, tre, io già lo so che i cartoni troverò! Sul microfono clicchiamo! E Mascia e Orso, ho bisogno di te! Visto com'è semplice! E adesso provateci voi!